Allora ragazzi, popolo della Nord, scusate la voce ma dopo ieri sera insomma la voce è quella che è. Finalmente siamo in Serie A, dobbiamo ringraziare i giocatori, Fagiano, tutta la società, il capitano, tutti quanti. Però c'è uno da ringraziare in particolare. Ragazzi, allora, non è ancora finita, abbiamo festeggiato a Spezia, abbiamo festeggiato ieri sera, però c'è da festeggiare ancora qui. C'è stata una promessa tra me e Angelo Manfredini, adesso non mi ricordo se con la Clodiense lì a Rovigo, non mi ricordo dove cacchio eravamo, a Borgo San Lorenzo di mercoledì, forse lì. Abbiamo detto se andiamo in Serie A, se andremo in Serie A, chissà fra quanto tempo, c'era da festeggiare qui. Ecco, quindi ragazzi, contattate lui o me, fate girare il video, facciamogli sentire la nostra vicinanza, la nostra vicinanza, dobbiamo ringraziare lui che ci ha ricompattato tutti, tutti, veramente. Facciamogli sentire chi siamo e veniamo qui a mangiare tutti una pizza un venerdì sera, non so se questo è venerdì o il prossimo. Fate girare questo video, avete capito? Fate girare il video. Veniamo tutti qui a festeggiare, l'ultima trasferta, l'ultimo festeggiamento, a Spezia non si festeggia, no, ci abbiamo festeggiato, a Parma ci abbiamo festeggiato e ora festeggiamo anche qua a Carpenedolo. Dai, dai, contattate me o Manfredini, dai.